quella di oggi è stata una giornata importante per la viabilità nell'agro nocerino sarnese in provincia a salerno è stata messa alla parola fine alla lunga storia della costruzione della strada alternativa alla statale 18 via libera alla realizzazione dell'ultimo pezzo quello che congiunge nocera superiore allo svincolo autostradale della 30 di castel san giorgio il tratto viario attraversa anche il territorio comunale di rocca piemonte e nocera inferiore dopo la diffida dell'impresa rcm costruzioni politica e pubblica amministrazioni hanno dato un'accelerata ad un progetto che potrebbe ridurre il caos sulle strade di gran parte dell'agro nocerino le difficoltà sono state superate questa mattina la riunione tecnica ha dato un'accelerata al progetto che è stato modificato dopo alcune osservazioni dell'amministrazione comunale di nocera inferiore che deve provvedere anche ad una variante al puck e la protesta dei residenti nella zona di santa maria maggiore sarà costruito un viadotto per collegare la viabilità alternativa che vada a nodarsi all'innesto con lo svincolo della 30 di castel san giorgio il tracciato riveste un'importanza strategica per l'agro per l'aggerimento del traffico pesante e non che apporterà alla statale ma può essere determinante anche per nocera inferiore in particolare per la zona del tribunale e dell'ospedale puoi Grazie a tutti